buongiorno a tutti ben arrivati siamo al nuovo incontro di Luca due mila e duecento anni di storia oggi abbiamo eh con noi Simonetta Simonetti ciao Simonetta buongiorno buongiorno parleremo di Teresa Bandettini prima di iniziare lascio la parola a eh l'assessora Ilaria Vietra grazie Carlo buongiorno eh con piacere porgo un benvenuto benvenuta a tutte le persone che stamani hanno deciso di seguire questo incontro della casa della memoria della pace come diceva Carlo il nostro percorso è iniziato da tempo siamo eh molto soddisfatti perché abbiamo avuto la possibilità di condividere con tanti e tante pezzi di storia importanti della nostra città quest'anno in particolare ci occupiamo di personaggi e quindi abbiamo lavorato intorno a delle figure significative e a delle famiglie da stamani iniziamo un percorso che vede protagonista le donne e per me questo è particolarmente importante per molti motivi avevamo già iniziato in realtà col primo incontro quello di Ilaria Sabatini parlando di Matilde di Canossa ad assumere l'ottica della storia di genere adesso entriamo proprio nel vivo con alcune donne che da oggi nei prossimi incontri diventeranno le protagoniste di rievocazioni che ci permetteranno di riscoprire aspetti significativi e non del tutto consueti conosciuti dal eh dalla cittadinanza della nostra città eh stamani parliamo di Teresa Bandettini eh rispetto alla quale una figura che eh non è molto conosciuta nei dettagli della sua attività delle sue doti e della sua biografia ma mh almeno il suo nome conosciuto ce lo ricordava poco fa proprio l'otto di marzo all'interno di un incontro gestito con maschile plurale uno dei relatori ed è conosciuta grazie ad uno degli aspetti che è la toponomastica femminile almeno questo possiamo dire che sia stato fatto a lei è intitolata una strada e questo fa sì che il suo nome sia abbastanza familiare sugli aspetti della storia delle donne stamani abbiamo una relatrice eh d'eccezione possiamo dire abbiamo Simonetta Simonetti che è una delle persone più determinate in questo periodo nella nostra città a lavorare sulla storia delle donne insieme a tante altre studiose ricercatrici intellettuali che si occupano di donne Simonetta però risalta per la sua tenacia per la sua determinazione per il suo impegno a tutto tondo su tante figure femminili le figure del lavoro le figure della resistenza le figure della storia in generale e in particolare con Teresa Bandettini a cui ha dedicato recentemente un libro ci porta in un contesto che è quello eh tra settecento e ottocento in un periodo storico estremamente interessante perché quello che fa dalla fine della nostra repubblica al principato e poi al ducato e ci porta in un ambito che è eh la straordinaria dote di una donna per l'arte per la cultura ecco che affrontare questa vicenda questa biografia ci permette di andare a fondo su tante delle questioni che ancora oggi sono attuali come viene percepita come viene eh interpretata a volte come viene giudicata una donna che fa della sua attività pubblica il perno della propria vita una donna che viaggia una donna che conosce molte persone una donna che è apprezzata da molte persone beh sono tutte tematiche che hanno un rilievo eh importante che Simonetta ha messo in evidenza nel suo testo e sono tematiche anche estremamente attuali io quindi la ringrazio la ringrazio per tutto il lavoro di ricerca che fa e anche di divulgazione per i libri che ha scritto per le conferenze che ha tenuto e che hanno sempre eh attivato nella nostra città un interesse importante per la storia delle donne ringrazio anche tutti voi che partecipate e anche questa volta voglio ringraziare la collaborazione con l'ufficio del turismo in particolare eh ma lo cito a nome di tutte le componenti eh la funzionaria Laura Goracci e Antonella Giusti eh la collaborazione con l'ufficio del turismo ci ha permesso di dare anche uno spessore importante ai luoghi della nostra città e ci fa piacere poterli riproporre sia a coloro che ci seguono da lontano che forse non li hanno visti ma saranno sicuramente attratti dalla possibilità di visitarli sia proprio anche ai cittadini e alle cittadine lucchesi perché non finiamo mai di apprezzare fino a fondo tutti i luoghi della nostra città e quindi vogliamo partendo con le immagini dare proprio uno spessore molto forte alla relazione fra i luoghi e le persone e iniziare questa nuova carrellata di figure di donne proprio a partire dalla relazione con il nostro territorio. Grazie a tutte e a tutti per la partecipazione un grazie particolare a Simonetta Simonetti un altro grazie a Ave Marchi che sarà una delle prossime relatrici e che è molto importante come collaborazione anche oggi grazie a tutte le donne che a Lucca si occupano di storia delle donne e buona partecipazione. Bene grazie eh grazie Laria e adesso prima di far vedere il video volevo eh anch'io ringraziare ehm per la realizzazione del video la provincia di Lucca e anche la prefettura che ci hanno concesso eh le riprese proprio di fare le riprese a Palazzo Ducale Grazie a tutti 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 e a tutti nuovamente grazie per questo invito eh mi fa sempre piacere parlare di ciò che scrivo Grazie a Simonetta adesso non ti vediamo ehm da troppe cose come mai aspettate non perdevate niente comunque va bene mi sentite dicevo che con questo video eh siamo partite dall'ultima parte di questa storia di questa donna di questa poetessa e da Palazzo Ducale quindi io tornerei un attimino indietro e partirei subito con un video con un'immagine che ci fa un po' entrare e che ci fa un po' entrare e ci fa un po' entrare e ми serve da fo' nell'ultima del poetare all'ultimo ademo centra e non Terre ampliologgangico di법ano e anche uno vedete su un po' entrare e qui e il po' entrare e qui è questo Foi MR basically che specialmente nei pranzo nelle manifestazioni si esibivano con grande piacere ed infatti queste due donne che ora io vi presento abbiamo alla sinistra abbiamo la fortunata fantastici una poetessa improvvisa di improvviso dell'improvviso livornese e accanto teresa bandettini ambe due ritratte da una grande artista che fu angelica kaffman che è tuttora grande artista e come vedete le ha rappresentate con degli abiti insoliti che non fanno parte certamente del periodo storico a cui essi appartenevano sono super giu coetane sono legate da moltissime cose lo vedremo nel corso di questa presentazione avanti affrontiamo un secolo particolare affrontiamo un settecento già inoltrato perché teresa bandettini nasce nel mille settecentosessantatré e concluderà la sua vita terrena nel mille ottocentotrentasette per cui attraversa un periodo storico come è stato prima accennato anche dall'assessore avietina un periodo storico particolare qual era il ruolo delle donne nel settecento beh qui bisogna specificare anche una tipologia sociale un'appartenenza sociale che qualificava la presenza più o meno più o meno nella vita pubblica per quanto riguarda le donne eh della media borghesia o di un certo rango la un ambiente privilegiato fu quello dei salotti perché il salotto perché vedremo che il salotto sarà il lo scenario tipico e consueto dei dei poeti o delle poetesse che improvvisavano avanti teresa bandettini allora per parlare di teresa bandettini si potrebbe risolverlo in in un quarto d'ora come parlare per ore la sua vita eh fu una vita piuttosto movimentata nasce a lucca figlia eh di alba micheli e perché cito la madre cito la madre perché sarà un sostegno e veramente un supporto importante per la vita di teresa eh rimane orfana da molto all'età di cinque o sei anni però dimostra fin da piccola un grande amore eh per lo scrivere e per il rimare si dice che eh continuamente durante anche le ore di lavoro in casa i lavori domestici verso i quali lei non era veramente molto propensa eh amasseri rimare e verseggiare insieme alla madre questioni finanziarie questioni economiche gravano sulla famiglia dopo la morte del padre per cui la teresa la piccola teresa all'età di otto nove anni è costretta ad andare a ballare a diventare ballerina al teatro di bastia un teatro che poi vedremo nel corso di questa presentazione eh l'amore di teresa per per la gestualità per l'improvvisazione quindi nasce fino dall'ambiente familiare verrà e andrà e andrà avanti è una ragazza che studia tantissimo ecco bene qui c'è uno uno dei tanti complimenti eh che le vengono rivolti e infatti comincerò con un complimento al suo aspetto fisico e finirò con un altro complimento fatto da Parini nerissima aveva gli occhi ben tagliate e sorridente la bocca giusto e ben profilato il naso non molto tumido il petto era svelto ed elegante della persona come vedete sono tutte caratteristiche femminili e fisiche e fisiche che vengono messe in evidenza bene furono molti i poeti e le poetesse dell'improvvisazione nel periodo in cui Teresa visse giustamente però questo tipo questa tipologia di di poesia era molto mh più adatta e ben portata avanti dalle donne eh perché perché avevano anche quindi quella e quell'impatto eh visivo quell'impatto fisico che consentiva anche a loro di avere una gestualità e un modo anche di atteggiarsi un tono della voce che era molto più tipico del genere femminile che di quello maschile anche se purtroppo vedremo che nel corso della storia ben poca memoria rimase delle donne mentre si ricordarono benissimo eh altri poeti che invece avevano che erano appartenuti al genere maschile sia eh sia Teresa Bandettini che Fortunata Fantastici erano state eh in un certo senso eh attratte eh dalla dallo stesso uomo da Vincenzo Monti Vincenzo Monti si rivolge a loro con complimenti scriverà loro poesie eh scriverà a a Teresa un un sonetto bellissimo che io vi voglio dire proprio perché veramente pur non essendo una grande amante della poesia questo mi ha colpito auspice un tanto Dio sciogli tranquilla ninfa di divino canto l'alme scuoti ai severi difficili nipoti di curio e camillo e teco viene la pieta teco il diletto teco l'eleganza nei bei modi ardita eleganti ed ardite addirittura osè nel loro atteggiamento portavano nei salotti una figura femminile che andava oltre i canoni consentiti dal periodo il Monti ascoltò addirittura per otto volte ehm Teresa Bandettini quando ella partecipò a Roma a una delle tante improvvisazioni e iniziative che venivano fatte e rimase colpita dal fatto di questa giovane donna Teresa allora aveva una trentina d'anni che aveva praticamente per otto volte cambiato sempre sullo stesso argomento cambiato sempre metro e forma diversi e infatti lui lui la definì donna il cui carme le animi soggioga andiamo avanti diamo un'occhiata un pochino più da vicino alla famiglia ultima di quattro figli orfana figure di di riferimento come ho già detto la madre Alba Micheli e un grande interesse per la lettura che le che faceva di nascosto come ho vi ho detto non era molto portata ai lavori domestici per questo veniva spesso rimproverata dalla madre di da dove sono state prese queste notizie ecco lei ha una singolarità lei scrive la sua autobiografia perché perché lei non si fidava degli altri e anche il fatto di avere poca fiducia negli altri sarà una caratteristica che la che le farà compagnia per tutto il corso della vita un'infanzia serena ecco diamo un'occhiata ad alcuni dei palcoscenici perché lei eh la sua caratteristica prima la ricordata Ilaria fu il fatto di viaggiare lei è stata una viaggiatrice incredibile e pensiamo a quanto poteva essere difficoltoso un viaggio eh fare un viaggio in quelle in quel periodo poi fare un viaggio non solo perché non ci dimentichiamo che lei porterà sempre dietro di sé la vecchia madre finché eh le sarà possibile poi porterà il marito che più tardi vi presenterò e porterà poi il figlio l'unico figlio che lei avrà quando quando le sarà possibile è una viaggiatrice lei gira tutta l'Italia di cima in fondo si fermerà in alcune città in altre avrà successo in altre meno però lei continuerà a lavorare e lei a lavorare ho usato il termine giusto lei lavora per vivere quindi oltre alla grande passione all'entusiasmo all'ardore a portare avanti questa questa performance poetica che ha proprio questo impatto anche socializzante se ci pensate bene oltre a questo lei deve lavorare per vivere allora teatro di Bastia teatro la Fenice teatro di Bologna e e l'ultimo teatro sarà il teatro del giglio non cioè teatro la scala e la scala tanto per citarne alcuni eh perché poi andò al teatro come era a Firenze a tanti altri teatri logicamente il primo impatto era il teatro poi erano i salotti e le casse dei nobili che la ospitavano avanti eppure allora eh mettiamo in evidenza chi era lei non era di nobili natali come abbiamo detto però aveva queste caratteristiche naturalezza gestuale empatia con i temi trattati e l'estro l'estro il furor poetico e la passione uso dell'endecasilbo nell'ottava rima della terzina fluidità e facilità sono tutte caratteristiche che appartengono anche per un elemento talentuoso perché ci vuole anche un talento una predisposizione per portare avanti questo tipo di di poesia avanti allora perché ho messo qui una uno stralcio una pagina di lettera perché eh il carteggio eh le lettere che io ho raccolto che ho letto su che Teresa Bandettini eh scrisse a moltissimi personaggi sono praticamente eh il mezzo più efficace di comunicazione che allora era in oggi purtroppo abbiamo perso questo tipo di di comunicazione ma eh il carteggio epistolare era eh sia nel settecento che anche nell'ottocento e addirittura anche un per una buona parte del novecento diventò eh l'unica forma di comunicazione una forma di comunicazione molto amata anche dal genere femminile perché a loro era consentito quindi di scrivere e di mettere su carta anche sentimenti o commenti o deduzioni o impressioni che non avrebbero potuto esprimere di persona o a voce eh per dare un'idea di quanto è cospicuo il carteggio di Teresa Bandettini eh sono circa tremila le lettere a trecentosettanta destinatari io ho fatto un un zunto ma sicuramente non è esaustivo centootta da Severo Bettinelli che poi vi presenterò a Tommaso trenta scusate il minuscolo e poi ce ne sono tante altre sparse per l'Italia ok l'Arcadia perché l'Arcadia dunque l'Arcadia ha due queste due immagini un po' sbilenche il primo è lo stemma dell'Arcadia l'altro è l'Arcadia la sede attuale dell'Arcadia perché ancora vive questa associazione culturale purtroppo è un'immagine un po' offuscata da questi da questi mezzi automezzi e motori che ci sono si trova a Roma in piazza Sant'Agostino l'Arcadia praticamente è una specie di eh rivolta di di rivolta a quella che era stata il la poesia barocca e il il barocco in generale è un'associazione culturale eh molto aperta perché molto aperta perché accettava anche le donne furono circa a quattrocentocinquanta le pastorelle arcadiche tra le quali c'è anche quindi Teresa tra le quali c'è anche Fortunata ci sarà la Maria Maddalena Morelli Corilla Olimpica e ognuna di loro poteva doveva scegliersi un nome che era legato al tema del dell'Arcadia un nome il primo nome veniva scelto dai custodi che erano coloro che dirigevano l'Arcadia l'altro eh veniva scelto dalla persona infatti lei si chiamerà Amarilli e Etrusca avanti va bene possiamo andare avanti perché questi sono sceni storici sull'Arcadia guardiamo ecco che cos'è l'estro l'estro è legato strettamente al momento in cui la performance è in atto e rivela così la sua presenza a volte si si è da a volte si dà un'accezione negativa del termine estroso no? Si pensa si dice estroso una persona che ha un qualcosa che va al di là della normalità ma in quel tipo di poetare era necessario eh? Avanti Allora eh cominciamo i periodi importanti della sua vita eh comincia eh quando desci quando decide di di troncare la sua esperienza di ballerina eh perché decide di troncarla? Perché tanto forte era il suo amore per lo studio eh per i classici leggeva Dante, Petrarca, Diosto, Tasso, lei leggeva in continuazione tutte le volte che poteva ebbe la fortuna di conoscere anche molti personaggi dell'epoca alcuni di loro ebbero un atteggiamento positivo verso di lei altre le rovinarono un po' la vita però questo è possibile leggerlo eh nel corso del testo che che prima che io ho 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 cercato di buttare giù e lei ebbe ebbe una una specie di folgorazione lei decide che questa sua questa sua caratteristica naturale di essere ehm gestuale di essere in un certo senso attrattiva per per le persone che la guardavano di portare tutto questo e di legarlo anche alla sua al suo patrimonio culturale un patrimonio culturale che si andava veramente veramente estendendo pensate che lei già a sedici anni era in grado per esempio di tradurre dal latino eh diversi testi quindi era un'autodidatta e anche per questo ancora più incomiabile decide quindi di mettersi in campo e di buttarsi nel lagone poetico quindi comincia ad essere invitata nelle varie accademie che si trovano nelle città italiane si si viene invitata nelle varie sedie anche dell'Arcadia e viene invitata comincia ad essere invitata piano piano anche dalle nobili famiglie allora scusami fermiamoci un altro periodo viennese purtroppo l'ho messo qui ma è un periodo che di cui parlerò più volentieri dopo quali sono i suoi rapporti con la città di Lucca eh eh lei è lucchese abbiamo detto non non sono riuscita a trovare il posto eh la sua casa natale ho solamente un riferimento a Lucca quando lei in una lettera che scriverà ad una sua carissima amica la Marchese Eleonora Bernardini lei parla di un quartierino in via Buiamonti eh un quartierino dove lei aveva appoggiato la madre anziana nel momento in cui la madre non poteva più seguirla per ragioni di salute per il resto no un attimino fermiamoci al marito che è Pietro Landucci Pietro Landucci Landucci è un cognome lucchese è era era lucchese era un compagno di lavoro era un ballerino anche lui cavaliere e capitano sono molto scorretta vedo nello scrivere del duca di Modena frequenta la casa di Teresa la madre vuole che Teresa si a casi come tante madri vogliono che le figlie pensano che le figlie nel matrimonio trovino la realizzazione della propria vita e che sia quasi un dovere da compiere e fa di tutto perché Teresa sia interessata a questo giovane ed è qui veramente vi consiglio di leggere tutto tutte queste riflessioni che lei fa lei pensava che questo Pietro Landucci frequentasse la sua casa perché era innamorata della sorella Margherita però sapeva benissimo che invece erano per lei questa attenzione quindi c'è tutta una sorta di 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 tira e molla in queste richieste e praticamente poi si incontrano e si sposano che tipo di uomo è Pietro Landucci Pietro Landucci è la figura tipica del principio ma è il primo che è il primo che è il primo che è il primo che la sostiene nei momenti di sgomento nei momenti di di abbattimento di afflizione che sono molto frequenti nella vita di Teresa la sostiene e la sostenuta sempre e Teresa professerà anche nelle sue lettere il grande affetto e il grande amore che ha per lui eh amicizie amicizie Teresa ne ha tantissime perché grazie ai suoi viaggi ne ha tantissime però sono poche rispetto al numero che lei ha sono poche quelle che veramente lei manterrà forte ecco un'amicizia particolare che io ho messo in eretto proprio per questo è quello con Eleonora Bernardini una donna del tutto diversa la Teresa sia come ambiente sociale come proprio come estrazione culturale come interessi come stile di vita però tra di loro e sono circa cento le lettere che loro si scambiano è stato proprio il periodo che entrano a Luca quindi è un periodo particolare sono lettere interessantissime come tutte le lettere al femminile perché nelle lettere al femminile oltre che la materia di cui si vuol parlare viene fuori anche un qualcosa di sotteso che però fa capire determinato anche lo stato d'animo di chi scrive eh Eleonora Bernardini è una grande donna si prenderà cura addirittura della madre anziana di Teresa si prenderà cura del cagnolino mirtillo questa è una così una una chicca che io vi do quando ne avrà bisogno quindi sarà per Teresa il legame con la città e sarà la storia della città perché attraverso le le sue lettere e le risposte di Teresa più che altro le sue lettere si legge la storia di quel periodo Angelica Caffman l'abbiamo detto eccetera eh il carattere di Teresa Teresa è un carattere complesso eh un carattere complesso perché deve attraversare cioè a un certo punto della sua vita le sembra quasi di rendersi conto di aver fatto come si dice il passo più lungo della gamba e ha paura di non essere più all'altezza va avanti con molte incertezze tra le sue amicizie una persona sulla quale lei si appoggia e si affida sarà l'abate Saverio Bettinelli che aveva incontrato a Mantua durante una sua rappresentazione sconforto incertezze timore della critica desiderio di riscatto sociale questa questa voglia di riscattarsi la sempre dentro come se non si sentisse all'altezza eh degli ambienti eh di cui lei in cui lei viene invitata desiderio di rimanere nella storia questo è forte specialmente nell'ultima parte della sua vita quando lei si intestardisce che vorrà smettere di fare la poetessa di di improvvisare ma vorrà addirittura scrivere riportare su un testo quindi su uno scritto eh una sua opera la famosa Teseide verrà sconsigliata fortemente dal Bettinelli però sarà eh saranno ehm suggerimenti inascoltati lei porterà in fondo questa lei vuole rimanere nella storia eh vabbè questa attacchiamo ok una donna coraggiosa eh quindi ripetiamo le caratteristiche di Teresa coraggio tenacia e anche una certa dose di incoscienza perché praticamente lei entrava in un mondo eh che non conosceva fortemente eh nelle sue lettere al Bettinelli eh è amara ma non si avvilisce mai ha una ha un un amore eh contrastato verso la sua città quando lei viene a Lucca la prima la prima sua eh rappresentazione a Lucca sarà del 1794 e verrà ospitata all'Accademia degli Oscuri e lì troverà un altro suo amico cioè una persona amica Tommaso Trenta con il quale avrà un bel carteggio anche nell'ultima parte della sua vita lei però non rimane fortemente contenta del clima lucchese e più volte avrà a dirlo in una in una in una lettera amara che lei scrive ad una sua amica molto più giovane alla alla Luisa Maria Paladini che lamentava che si lamentava si lamentava del fatto che Lucca non non la riconosceva diceva tu hai ingegno hai il cuore hai mente poetica studia e toccherai la meta non sperare però che ti sia fatta giustizia guarda me che sono io in Lucca l'invidia ma perseguitata e muoio quasi dimenticata ecco questo questo dolore questo pensiero amaro l'accompagna infatti dice la mia vita amica mia è stato misto da parente fortuna e di vere disgrazie questa è una lettera però che lei scrive a ad una sua amica conoscenza molto più giovane di lei a Diodata Saluzzo Diodata Saluzzo è una poetessa però vive in un ambiente del tutto diverso da quello di Teresa infatti Teresa a un certo punto di la verità sopporta poco i lamenti continui di questa giovane poetessa e lei dice nulla ho da lagnarmi riguardo al nome che ho che acquistato mi sono superiore certamente al mio merito a meno lodi e più comido stato bramato avrei or che mi ha presso alla vecchiezza un problema costante che lei avrà sarà quella di guadagnare di garantirsi un futuro una tranquillità economica continuamente questo è il suo pensiero nell'ultimi anni della sua vita il suo pensiero fisso sarà quello di sistemare l'unico figlio che ha Francesco di ricevere una pensione adeguata dalla educa di Lucca non più soddisfatta di quanto riceveva dal duca di Modena ammirabile e ammirata qui si parla ancora di uomini eh uomini che si invadirono di lei moltissimo furono gli uomini che si invadirono di lei perché veramente era attraente ne rivolgono molto molta stima e uomini che la sostenero e sono anche molti altri tra questi vedete c'è un francese Emilio Li è un generale francese che era molto amante della poesia che addirittura pubblicò a spese suo le poesie di Teresa per questa sua amicizia lei fu mal vista e addirittura dovette andarsene via da Lucca e qui ritorniamo un attimino indietro al viaggio a Vienna perché perché va a Vienna cioè che cosa la spinge ad andare fuori dall'Italia e lasciare tutte quelle sedi che invece la ricevevano eh infatti nel 1795 aveva conosciuto questo generale francese che era giunto a Lucca dopo il trattato di Campoformio e che rimane invadito di lei e della sua arte lui pubblica a sue spese queste opere bene periodo viennese decide di andare a Vienna scrive a Bettinelli una ventina di lettere eh nel quale manifesta proprio veramente anche la sua angoscia se mi date se avete la pazienza io però una una bisognerebbe che ve la leggessi perché sono veramente belle cioè nella ricchezza epistolare che si vede scusate eh perché sono un po' impedita eh vabbè eh ve la risparmio ve la risparmio ve la leggerete poi se un giorno avrete l'occasione di avere questo libro fra le mani e praticamente lei eh scrive a Bettinelli che sì lei è andata a Vienna perché perché il suo scopo il suo obiettivo il suo desiderio sarebbe quella di diventare principessa di corte in questa maniera oltre ad avere una grande eh soddisfazione dal punto di vista personale poteva avere anche garantita una un certo appannaggio economico che gli avrebbe l'avrebbe l'avrebbe sostenuta e resa anche tranquilla nelle nella vita che che doveva ancora andare avanti improvvisa davanti all'imperatrice la grand'uchessa di Toscana e cerca questa sistemazione riceve poco eh riceve regali riceve oggetti preziosi di cui lei di cui lei veramente non sa apprezzare proprio in fondo la la bellezza e infatti dice io non vedo l'ora di partire e se la risposta è un no io non rimango e tornerà via dopo circa un anno avanti andrei andrei quasi ok allora eh tra le vabbè questa immagine è un'immagine vedete che ha poco a che fare con con il periodo però è per farvi capire che anche noi a Luca abbiamo un quadro un quadro della della Teresa Bandettini questa definizione è del Parini del Parini che rimane colpito anche lui vedete da queste caratteristiche fisiche che erano necessarie che accompagnavano accompagnavano naturalmente che cosa l'espressione la parola quindi la parola veniva ad essere molto più forte ed arrivava molto di più a chi ascoltava perché tutto era basato sull'ascolto eh arrivava molto più che ascoltava se c'era anche questa parte fisica che aiutava apriva e girava con gli occhi folgoranti mostrava schiudendo la bocca quei denti bianchissimi e richiamava l'attenzione alle prime parole e quantunque la voce non fosse armoniosa come quella della Fantastici del Molle e del Ferroni era sufficiente per produrre il diletto nei luoghi semplici l'affetto nei patetici e l'ammirazione nei grandi sì perché la la poesia dell'improvviso una cosa particolare che va tenuta anche in considerazione aiutò moltissimo anche quella parte di pubblico non acculturato cioè arrivava moltissimo anche a loro ora loro improvvisavano nei salotti nelle accademie quindi in luoghi di un certo tipo però eh in quel periodo si improvvisava anche nelle piazze si improvvisava nei mercati quindi seri è stato in un certo senso anche un piccolo contributo anche alla sì ok è stato anche un piccolo contributo per quanto riguarda anche la culturazione delle delle classi meno agiate eh volevo leggere un attimino il un commento sulle sull'incontro col generale francese il quale le mostrò benevolenza e quasi di protezione appassionata ed essa convien dir la sua lode ne usò spesso onestamente servendo da mediatrice fra il generale del quale mitigò i rigori e la nobiltà alla quale tenevasi volentieri aggrappata quel periodo moltissimi nobili lucchesi erano spaventati eh sappiamo anche il perché eh da questa ingerenza francese dal fatto che i loro beni sarebbero stati un po' dispersi sarebbero e loro ne sarebbero stati privati per cui la bandettini grazie a questa attenzione da parte di questo generale francese diventava un po' una mediatrice diventava una persona a cui fare riferimento quindi molte furono anche le le male lingue che però ecco le arrivarono contro eh quindi il suo il suo desiderio più importante fu quello di ora mi dispiace che non ho messo una cosa importante mh una cosa all'inizio vi ho fatto vedere le immagini di queste due donne e vi ho detto che c'erano diverse cose che le rendevano eh vicine uno il fatto di praticare la stessa arte quindi la poesia una era anche un'altra cosa molto più molto più di cuore se vogliamo allora ambe due eh hanno avuto figli la Rossellina la la fantastici addirittura ne ha avuto sette i cui cinque muoiono la Teresa Bandettini così nell'accezione comune sembra che abbia avuto un solo figlio e questo non è vero assolutamente lei abbia anche una figlia questa figlia morì eh nell'attimo in cui venne partorita e lei scrive una una poesia tremenda in cui veramente si sente non più solamente la poetessa improvvisatrice ma si sente il dolore il dolore di una madre una poesia in cui lei eh invece contro la morte contro la morte che li ha che li ha rubato che li ha portato questa via questa figlia e l'ha fatta diventare una 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 sorta di erba secca proprio eh ecco questo aspetto li avvicina moltissimo ambe due si confidano su questa cosa si sentono legate da questo e anche questa è una particolarità che rende Teresa ancora più precevole come figura quindi una donna del settecento di fine settecento una donna che che viaggerà che si farà dietro sempre la famiglia che farà della sua arte anche un modo per sopravvivere e che riuscirà solamente in tarda età solamente quando rientrerà a Lucca dopo il suo lungo soggiorno a Modena quando rientrerà a Lucca ma al volentieri ma sa che questo è un suo dovere quasi eh diventerà poetessa di corte solamente alla corte di Maria Luisa di Borbone questo le sarà concesso addirittura a don Lodovico nel mille ottocento trentacinque pubblicherà i suoi versi quindi per lei questo sarà un grande onore un onore che ha raggiunto con grande sacrificio e con grande tenacia a questo punto io mi fermerei un attimo e vi chiederei se avete domande e intanto vi vi cerco una bellissima lettera che alla quale ho fatto riferimento per adesso non ci sono domande se non è che andrei ruota libera si continua pure di solito le facciamo in fondo le ok allora io continuerei un attimino sulle sulla sua difficoltà di aver fiducia negli altri anche questa è una caratteristica che andrebbe portata avanti vi ho detto che aveva tanti amici no quindi una persona che ha tanti amici e tanti amiche quindi una rete di amicizie piuttosto vasta eh si pensa sia portata ad avere fiducia negli altri no di solito è questo che lega a una persona eh a una persona amica però lei invece mantiene sempre questo senso di sfiducia e una cosa particolare che vi che vi vorrei leggere ecco è quando lei eh reagisce in maniera piuttosto violenta alla richiesta di Tommaso Trenta il suo amico lucchese quindi il suo concittadino il quale dice ma sarebbe bene che tutto quello che lei sta dicendo che sta declamando nei salotti sarebbe bene che venisse raccolto e in uno scritto per cui quindi conservato e anche in un certo senso protetto per lei questa è una è una cosa è quasi un'offesa e dice la mania la mania che al di d'oggi sembra aver preso piede negli estensori e collaboratori di varie biografie fa sì che a capriccio cotesti scrittorelli non contenti di fabbricarsi un'istoria apocrifa di chiunque ha meritato per lo passato un qualche nome e che smentire non è lordato all'impostura perché sono morti sfacciatamente pur anche chimerizzano sulla vita su costumi e sulle opere di molti che tuttora vivono e che potrebbero a buona ragione convincere loro di falsità io però già che più e più volte ho dovuto sofferire di leggere in non pochi fogli il mio nome e devi trovarmi non qual sono ma qual è ma qual è piaciuto a farmi essere a questo a quello scrittore della mia vita io ho risoluto scrivere queste memorie e darne io stesso conto di me della mia nascita dei miei costumi degli studi miei con quella sincerità mia propria con il pregio che nessuno mi ha mai mi ha mai conteso e quindi che finora non hanno conosciuto lei afferma la sua autonomia di scriversi ma non accetta assolutamente che venga scritto ciò che invece l'oralità ha portato avanti perché l'oralità ha questo pregio un pregio insostituibile nella metacomunicazione abbiamo visto che l'oralità non è solo voce l'oralità è atteggiamento è suono è è colpo d'occhio e quindi è il canale che si attraverso il quale si indirizza il vero che ascolta e questa straordinaria capacità di continua mutevolezza rende ogni minimo verso un gesto un tono sempre diverso perché è legato al momento e allo stato emotivo dell'improvvisatrice che non può essere sempre il solito ecco qual è la 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 caratteristica la ricchezza e la particolarità dell'improvvisatore il fatto che quando uno parla beh io anch'io in questo momento sono sicuramente diversa da quello che sarei se parlassi tra un'ora cioè tutti lo stesso voi ascoltando cioè noi viviamo immersi in un mondo fatto di di sentimenti di e di cambiamenti e vi leggo quella poesia quel sonetto che lei scrive quando in morte della figlia madre madre me festi la mia speme seccasti in erba o sovrana terribile a cui tutto servir dei ciò che spira tu rese ai di ghiaccio le tenere sue membra e buio eterno coprì sua fresca aurora talché da ognun signora tranne me sola il colpo che non vale madre me festi io benedì l'immensa grandezza tua or me togli ed ho con me la mia deve in natura ribelli affetti desta in me dopo due anni nascerà francesco nel mille ottocentosette e infatti lei farà un breve scenno di questa di questa morte in una lettera che invia al marchese antinori dove dice la figlia che partorì il 25 gennaio non visse che 18 giorni e quindi è una cosa un po' come se lei non ne volesse parlare proprio eh allora lei eh continua a girare quindi vedremo che girano tutte le città in tutte le città lascia qualcosa riceverà riconoscimenti addirittura anche a Roma verrà ricevuta da Corilla Olimpica la famosa Maria Maddalena Morelli e ancora una volta una donna toscana perché in effetti la toscana sul fatto dell'improvvisazione penso che sia quella che conta il più numero di poeti no pensiamo anche alla pastorella dei pian degli ontani anche lei era un'improvvisatrice no la Beatrice Piagelli vero io dico vero perché ho accanto a me ave ogni tanto fa l'assistente ogni tanto la la controllo volevo vedere se trovavo quella lettera che che vi dicevo di Vienna eh no vabbè eh passiamo un altro sempre sul tema dunque l'affetto per il marito marito sicuramente eh ve l'ho detto un marito amato un marito molto comprensivo anche che comprendeva anche probabilmente questi sbalzi di carattere ma c'era un legame fortissimo tra tra di loro però lui si ammala si ammala quindi questa la malattia del marito è una cosa che l'angoscia anche perché lei sente eh sente anche che da parte sua la la salute comincia un po' a a farsi a farsi desiderare e e quindi dice io me la passo sufficientemente bene sono occupata la mia ottima sovrana mi concede poco ozio finalmente ha raggiunto a Luca il suo grande sogno io però la servo con zelo perché sono sinceramente attaccata a lei la sua reale famiglia eh a Luca non è che si trovi granché bene però sa che deve adattarsi infatti nell'ultima parte di questo di queste immagine che ho messo c'è il commento eh di Lanzoni che la invita a pranzo e dove dove si legge un attimino da quando ci arriviamo non è non è più condiviso è il powerpoint ecco adesso ci siamo tempo all'ultimo quando parla del Lanzoni del Lanzoni rispetto quando dice che è qua dietro mi ricordo poi ci va avanti eh allora indietro perché ora siamo in fondo ancora ecco no no niente eccola qua no indietro scusate eh perché eccolo qui allora eh come abbiamo visto eh il ritmo della sua vita è stato un ritmo frenetico no quindi anche questo può avere inciso sullo stato di salute e sulla anche la la sopportazione di determinati stress che naturalmente c'erano a parte quello del viaggiare che dico pensate un attimino a cosa voleva dire viaggiare in quel periodo e paragoniamolo ad oggi ecco in un pranzo di casa Lenzoni invitata fu tra commensali la famosa Teresa Bandettino a Maria Letrusca e mille tristi considerazioni risvegliò mia alla mente quella povera donna che aveva già avvalicato i suoi settant'anni questo l'abbiamo trovato nel diario di Mario di Mario Pieri sedendo alla nostra indiscrezione sarà cinta a improvvisare strofette e con tale commozione anzi convulsione che trasse le lacrime a tutti certo vi traspariva qualche barlume dell'antico talento quindi lei fino a un fondo è una cosa che fa parte un po' di lei non so se vi è mai capitato io ho avuto la fortuna invece di di averla questa occasione di stare vicina ad un'anziana eh e mi riferisco in particolare alla alla donna perché era molto più vicina alla donna questo tipo di poetare che ha cominciato a cantare una una filastrocca una canzoncina alle sue tempi e a rimarla eh ritornando al concetto iniziale che l'improvvisazione il modo di improvvisare fa un po' parte anche del nostro del nostro passato io almeno ho avuto l'occasione di stare vicina a tante donne che avevano l'abitudine l'usanza di stornellare o di rimare anche in maniera a volte anche diciamo un po' un po' spinta un po' colorita che però ecco per noi ragazzi è stato è stato un grande dono a questo punto io mi fermo perché bevo un bicchier d'acqua e aspetto se ci sono domande altrimenti potremo leggere altre cose se voi avete piacere mi trovo quella lettera dell'Austria maledizione per adesso non ci sono domande ehm eh capito ma vado io continuo io continuo a leggere non cioè mi sembra come vuoi io voglio chiederti questo ecco semmai sì dilla dilla adesso stai pubblicando no il libro su Teresa Bandettini sì come dire eh portato a scegliere a scegliere di voler raccontare la storia di Teresa Bandettini ti posso rispondere allora no e dicevo ehm cioè il fatto di scrivere su donne per me è una cosa consueta no sono anni che mi occupo di storia delle donne però ecco eh ci sono delle donne che mi attraggono forse per anche una certa compatibilità di carattere o anche di 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 modi di pensare e altre meno allora di 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 Teresa Bandettini non mi attira affatto l'aspetto della poetessa questo lo dico lo dico chiaramente e lo l'ho detto più volte perché forse non mi intendo eh di poesia perché ritengo che la poesia sia una cosa ritengo io per io come quindi è un mio pensiero e basta ritengo che sia una cosa intima da tenere dentro e non mi piace molto la la gestualità la teatralità delle delle sporsi però io l'ammiro tantissimo perché è una donna coraggiosa perché è una donna caparbia è una donna tenace che non si ferma di fronte agli ostacoli che cerca di perseguire ciò che ha ciò che ha scelto di fare nella vita e quindi riesce però nel contempo anche ad avere una famiglia quindi anche a condividere un suo patrimonio sentimentale ed emozioni anche con altri quindi per questo io l'ammiro fortemente soddisfatto allora c'è una domanda sì grazie c'è una domanda da parte di Nadia chiede era quindi lei che si occupava del sostentamento della famiglia la sua vita quindi è stata al limite dal punto di vista economico posso rispondere sì allora sì eh dunque lei lei il suo pensiero fisso era quello di mantenere la famiglia o che le sia derivato anche da una situazione precedente il fatto che nella famiglia eh paterna si era trovata in queste situazioni lei cresce con questo sentimento lei sa che se deve andare nei vari posti lei deve avere il quartierino giusto dove porterà la madre dove poi porterà il marito e il figlio quindi deve avere tutto una serie di facilitazioni di servizi che le sono necessari cercherà di accettare meno possibile doni tipo pettine un pettine prezioso un fermaglio eccetera lei ha bisogno di mantenere per lei è brutto a dirlo però è giusto dirlo per lei quello è un lavoro cioè lei deve lavorare e il suo pensiero fisso sarà quello poi di avere una pensione giusta che le consenta di vivere in tranquillità gli ultimi anni della sua vita e la chiederà fortemente al 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 duca di lucca poi la la otterrà e sarà quella poi di sistemare economicamente il figlio francesco non con questo è cioè è una cosa giusta se uno non ha bisogno di guadagnare non fa tutto questo lei fa una cosa che le piace fare che fa bene però lei ha bisogno anche che questa cosa le permetta di sostenere di portare avanti un certo stile di vita allora altra domanda da parte di sala sarà quali erano le figure culturalmente con lucca contemporanea teresa bandettini e con quali di queste si è eventualmente confrontata sia nella sua arte che nei suoi interessi letterali allora e dunque le figure di quel periodo per quanto riguarda la poesia e sono tutti i pastori della cioè tutti i componenti dell'arcadia che hanno sia nomi arcadici sia nomi invece normali quindi anche un vincenzo mondi anche un parini anche un alfieri e una fortunata fantastici una corrida olimpica per quanto riguarda lucca lei è molto amica di anche di persone come il trenta sicuramente del fornaciari nell'ultima parte della sua vita perché non non corrisponde in un certo senso il periodo storico e della marchese leonora bernardini lei vi dico la verità a lucca non stringe amicizie con persone che appartengono al mondo della cultura ha solamente questo contatto con l'accademia di oscuri e quindi con tommaso trenta verso il quale rimarrà veramente legato perché nell'ultima quando lei sarà lucca si occuperà molto eh del trenta e della sua famiglia e scriverà un poemetto intitolato a montramito sulla casa che loro avevano a montramito quindi c'è questo legame poi però altro almeno altro che io non so via qualcosa sai dire qualcosa di più sull'accademia degli oscuri sì dunque l'accademia degli oscuri è è un'accademia che viene cioè che praticamente è un'associazione un'associazione culturale ora un attimino che vi vi cerco che avevo proprio una lettera in cui di cui lei in cui lei parlava tantissimo invece la legge di una lettera è importante va bene va bene non trovo la lettera se no la si perderebbe troppo tempo per tutti allora l'accademia degli oscuri a sede a lucca è un'accademia culturale logicamente non aperta alle donne ma solamente aveva componenti maschili poi diventerà l'accademia napoleonica eccetera non è non è niente di diverso dalle varie accademie che in quel periodo si ritrovavano a lucca ecco direi quasi che le accademie eh sia quella dell'arcadia sia anche questa degli oscuri ed altre che sono in altre città italiane diventano un po' il luogo dove la cultura poteva essere eh esposta e si poteva continuare anche a poetare o a scrivere non so se sono stata esauriente me me ne scuso però non riesco a c'avevo una lettera bellissima non riesco a trovarla e Nadia chiede eh lavorò solo alla corte dei Borbone o anche dei Basciocchi? Vabbè lei lavorò anche alla corte dei Basciocchi poco è perché lei no cioè in effetti alla corte dei Basciocchi poco perché lei rientra eh rientra a lucca nel nel 1700 dico la data esatta eh dunque aspetta rientra a lucca eccolo qua eh nel 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 1800 no e quindi Basciocchi non non ci ritrova più sicuramente nel 1835 quindi non è 1800 no 1830 per cui non trova più Basciocchi lei ha rapporti principalmente con Maria Luisa e poi dopo vabbè con il figlio Lodovico il quale poi l'aiuta anche finanziariamente riesce a darle quella famosa quella famosa pensione no e lei i contatti i contatti con i reali l'avrà a Vienna però poi ecco per quanto riguarda Elisa no non so se incontrando Elisa avrebbe avuto forse più fortuna o meno vi dico la verità questo non 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 me lo sono chiesto però ecco ora nel libro poi troverai anche riferimenti più precisi per quanto riguardano diciamo un sistema un po' strano di fare riprendere appunti quindi faccio un po' confusione nel mille mille ottocentodiciannove lei rientra definitivamente a Luca ecco mi piacerebbe sapere perché non interessa la parte gestuale mi piacerebbe sapere perché non interessa la parte gestuale che penso sia stata importante per la sua visibilità ed accettazione no forse allora forse mi sono espressa male ma no mi piace la gestualità mi piace il fatto che che lei sia gestuale non 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 mi appartiene a parte io come insegnante sto già smanaccando anche troppo con le mani infatti lo so benissimo che la gestualità è importante perché se non altro siamo convinti che rafforzi in un certo senso che rafforzi il messaggio che viene mandato quindi uso anch'io moltissimo questo modo di di usare no non sono molto cioè mi da noia la teatra teatralità della gestualità che è un po' diversa perché non mi appartiene però non è non è che la la disegno era necessaria è importante per quel tipo di di poesia Giovanni Tiretta e ti vedo ho risposto in maniera esauriente o no mi dica un po' non so con chi stavo parlando la domanda era stata fatta da Maria Teresa Maria Teresa te lo te lo riconfermo non è che critico la gestualità in quel tipo lì di poesia perché per forza era era necessario era indispensabile la gestualità più era gestuale e più accattivante però a volte poteva essere anche pesante non la l'eccessiva gestualità però sicuramente a me personalmente questa cosa pur essendo ho detto un insegnante per cui ho il vizio di smanaccare e di essere molto gestuale per rinforzare ciò che dico o nella presunzione di farlo eh era questo il mio pensiero però bisognerebbe anche dovresti tirare un po' più giù la telecamera assistente tirare più giù la telecamera che vuol dire ok sono io che mi muovo capito allora altra domanda da parte di Monica la produzione poetica di Teresa Vandettine venne pubblicata sì stiamo è stata pubblicata sì ma allora sì è stata pubblicata allora l'ultima parte allora furono pubblicati tantissimi sui versi anche all'inizio nelle sue prime esibizioni lei trovò tanti amatori di questo suo modo di poetare il Conte Murare a Bologna pubblicò le sue rime alti il mio lì il generale francese lo stesso pubblicò a sue spese le rime Carlo Lodovico lo fece in fondo al libro che ho scritto io ho fatto tutto l'elenco delle sue opere che sono veramente cioè a parte il poetare che può essere più o meno piacevole o gradevole le le novelle che lei scrive anche sono sono delle cose interessantissime ecco questo sicuramente no no è stato pubblicato no sugar 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 free yes milk attenzione a viglie se no punto cosa ridi ridi delle nostre battute perché noi ora prendiamo il caffè capito va bene no non so se se non ci sono altre domande possiamo anche fermarci qua o se hai altro da leggere ecco da giù ma io avrei tantissimo da leggere io spero spero di essere stata di essere stata di aver detto qualcosa perché io quando parlo di Teresa bandettini un po' mi mi emoziono per esempio è molto bella anche tutta la sua il suo dibattito che fa con Bettinelli quando lei si intestardisce che vuole pubblicare la Teseide guardate che la Teseide essendo un'opera scritta era una cosa che cioè che non non andava bene col suo stile di di poetessa però lei no lei si intestardisce lei vuole rimanere ai posteri e quindi si dà da fare nonostante i rimproveri dei del Bettinelli non ce la fa e quando torna Luca e quando ritorna per esempio nella prima sua prima venuta a Luca dopo Bastia anche lì insomma gli incontri sono piuttosto piuttosto limitati eh è lì che incontrerà per la prima volta Tommaso Trenta al quale dedicherà subito questo poemetto montramito eccetera sono amicizia fra di loro tantissime lettere dovreste leggere le lettere per guardate io dico nei miei studi ho fatto moltissimo lavoro sui carteggi epistolari femminili addirittura io ho fatto il censimento degli archivi di massa di massa Carrara di Sazzana proprio per quanto riguardava la scrittura femminile e attraverso le lettere femminili e si capisce si capiscono veramente tante cose perché poi uno stile diverso eh è un modo di scrivere che rivela che evidenzia anche tanti aspetti che spesso nelle lettere maschili non ti trovano la difficoltà è trovarli questi carteggi però ci sono ci sono perché era l'unico modo che loro stop grazie era l'unico modo che loro avevano per comunicare addirittura un altro carteggio interessantissimo sul quale io sto lavorando spero di portare in fondo è quello della famiglia Bernardini della Marchese Leonora Bernardini ma pensate che nel periodo della vita di Leonora lo scrivere lettere era praticamente una materia quasi direi didattica cioè si insegnava alle ragazze come scrivere perché lo scrivere era un modo anche di di tenere i contatti con le famiglie era una prassi educativa educativa per le ragazze delle classi nobili che venivano istruite ad acquisire una perfetta padronanza delle regole epistolari e pensate un po' per esempio vi leggo una lettera che la mamma Luisa De Nobili scrive alla figlia Leonora e gli dice mi raccomando pensa poi a scrivere al Cristofanini per un contarsegno di memoria che farà sempre onore al tuo buon cuore poi scrivi più presto che puoi alla signora zianna per allegrarti del suo ristabilimento delle tue dai le tue nuove alla signora Colette Carlotta tutte queste lettere le devi scrivere con la maggior sollecitudine in seguito poi devi scrivere una alla settimana cioè una 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 volta al papà in francese eccetera eh quindi è una cosa importantissima ora io mi prenderei un caffè un attimino e vi lascerei un attimo ok aspetta ci sono anche due domande io direi di arrivare a conclusione poi il caffè lo prendi magari cinque prendo ghiaccio via va bene sì vai dila dila allora Sara chiede sono curiosa di capire una cosa eh quando Teresa si sposta nelle altre città per esibirsi lo fa dopo essere stata invitata o prima lo fa dopo essere stata invitata o prima si sposta e poi cerca di esibirsi nei teatri no viene invitata viene invitata lei va già va già là sapendo dove va sapendo chi la davanti a quale pubblico si troverà e cercando anche di avere la sicurezza di avere un posto già pronto dove poter alloggiare specialmente quando va di quando se ne parte con la mamma eccetera e sa che venì che sarà ospitata e e il tipo anche di ambiente che troverà non sa per esempio chi troverà a poetare insieme a lei questo no e questa a volte è una cosa che la lascia un po' in in dubbio Nadia chiede se non ricordo male poiché improvvisava molto venivano scritte le sue perché improvvisava molto venivano scritte le sue esibizioni per documentarle? Eh no era una cosa che lei detestava cioè lei detestava il fatto che si scrivesse ciò che veniva detto almeno non prima prima parte della sua vita e quando dopo le prende quella quella voglia di rimanere eh ai posteri come come testimonianza così di 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 arte che allora decide di fare quell'opera scritta no perché come fai a scrivere a scrivere ciò che viene detto che non è solamente parola ma è un insieme di cose e quindi intorno alla eh ha ha un po' un significato cosmico no questa cosa perché quando uno parla non c'è solo la parola il suono della parola c'è tutto un insieme un entourage di sentimenti di emozioni di cose che si mischiano che rende la cosa impossibile ad essere fermata non sarà mai uguale a quella detta dopo l'attimo dopo non so se mi sono spiegato sono stata oscura ma chiaro eh c'è Maria Teresa che ritorna invece sul sul sull'aspetto della gestualità dice penso che la gestualità espressiva fosse molto importante e complementare per la per l'improvvisazione poetica eh ma allora allora forse mi sono proprio spiegata male era determinante cioè determinante per le per scusate che mi vedete un po' meglio eh allora eh la gestualità è un una caratteristica determinante della poesia di improvvisazione basta vedere anche un un anziano quando si mette a cantare qualcosa deve muovere le mani a atteggiare a simulare con i movimenti quello che trasmette anche nel testo la paura l'ansia la trepidazione eccetera quindi la gestualità è importantissima ho detto solamente io eh a me forse la gestualità non piace molto però è una cosa indispensabile quindi le donne il genere femminile riusciva fortemente ad esprimere al meglio l'arte poetica attraverso proprio la gestualità che non era solo il movimento delle mani ma era lo sguardo anche era l'atteggiamento anche a volte della posizione del corpo no? Sì la poesia di improvvisazione è andata persa allora eh cos'è successo con l'ottocento il lo stile cioè l'argomento che più viene portato avanti non è più certamente la poesia non è più tanto tempo di poeti quanto di romanzi è il romanzo che prende che prende voga c'è tutta una una corrispondenza anche fra il fornaciari e la la bandettini sulle su questa nascita del romanzo eh verso il quale la bandettini ha parole non tanto veramente non tanto positive la poesia la poesia estemporanea l'improvisazione rimane persa si oscura specialmente quella che riguardava poi le poetesse spero in questa maniera di averla riportata un po' fuori per esempio noi a Luca abbiamo fatto diverse esibizioni con l'Accademia Bandettini di improvvisazione e l'improvisazione è una cosa splendida ora loro lo facevano aveva come argomento avevano testi classici o della mitologia o della poesia eccetera per esempio al per esempio a Luca si faceva anche su parole no? Su parole che vengono dette ora non dico cioè sto per dire una bestialità quindi mi fermo perché la volevo raffigurare in qualcosa di odierno quindi mi fermo qui stiamo per dire che sono in garretto ragazzi però no ma penso non ce ne sia altre punto ci siamo? non so se vuoi leggere qualcos'altro se no possiamo salutarci io vi faccio vedere il video ma io penso non lo so se le persone hanno voglia di sentire altre cose io volentieri no no io leggo volentieri questo sì volevo vedere se mi trovavo quella lettera vediamo un po' eh allora eh per quanto riguardava una domanda che mi è stata fatta no? Che si diceva se queste sue opere erano state trascritte e per quanto riguarda il timore che lei aveva che che scrivendo le cose che lei diceva ne venisse fuori una cosa un po' deformata e non più attinente allo scopo alla realtà lei dice in una lettera che scrive al 30 che il quale non accenna a demordere dal suo proposito è però di scriverle dice se non vuole desistere ad insinuazione mia dall'istoria che disegna a scrivere almeno lo faccia in modo da non stuzzicare un vespaio di poeti che mi invidiano sopra questo particolare eh luogo lungo potrei fare un discorso a Firenze per esempio vi era una cabala grande contro di me la Fantastici mi ha confermato quest'opinione allontanandosi da me soltanto la prego a non volere che siano già mai finché io non credo opportuno stampati i miei improvvisi e questo carteggio si prolunga fino al 1799 sulla questione che tanto disturba la Bandettini fino ad una sua lettera il cui contenuto intende mettere un fermo e deciso no alle intenzioni di trenta lei non ne vuol sapere che queste vengano pubblicate eh perché pensa che questo sia un una cosa che fa perdere la l'autenticità della dell'improvvisazione per esempio quando succedeva spesso che due poetesse venissero messe a confronto direi quasi in una sorta di gara durante una una rappresentazione e c'è per esempio una descrizione dettagliata di uno dei presenti di una serata di quel tipo che così le le illustra questo caso le rappresentanti sono la la Fantastici e la Bandettini eccole tutte e due a sedere di rimpetto era il trionfo del bel sesso cominciò la Fantastici piacque e si sentì gli applausi rispose graziosamente la Bandettini e piacque anche essa si sentì un poco di differenza dello stile ma non vince assolutamente pareva pareva anzi che una desse coraggio all'altra credimi ingenuamente che la Fantastici aveva tant'estero che non ha cantato mai meglio essa creò delle immagini delicate a cui con altrettanta delicatezza rispose la Bandettini e credi che per conoscere la superiorità di quest'ultima ci voleva grande discernimento è certo però che lo stile e qualche cosa non avrebbe mai pensato la Fantastici a cui diede molto la Bandettini e notavano la di lei superiorità ma l'udienza le crede uguali la Fantastici è contentissima dice di aver smentito la voce che questa donna faceva quello che non faceva nessun altro e la si crede ancora superiore vero è che dice di stimarla ad ammirarla e come sta a tutto col dire è vero che la la Fantastici cantò benissimo ma la Bandettini amico la Bandettini non si pareggia quell'aurio stile quel linguaggio proprio terzo e poetico sono tutti i doni suoi grazie e arrivederci allora prima di concludere volevo dire io forse allora una bestialità che te non hai voluto non ti sei voluta spingere su quel territorio però mi sembra la poesia l'improvvisazione sia vivendo ad esempio oggi nella musica un momento importante perché la musica rap ma hai letto nel pensiero non la volevo dire con la bestialità lì io invece interessante la musica rap è un genere nato a questo punto si parla di 30 40 anni fa negli Stati Uniti negli anni 80 non c'è bisogno non ha bisogno di nulla a Sceneghetta e ha questa urgenza di di raccontare proprio la vita eh privata la vita personale la comunità bravo poi chiaramente ora sta avendo un grande momento anche in Italia si è veramente il genere che sta andando forte esistono proprio dei contest delle sfide che ma è quello tu guarda mai letto nel pensiero io prima mi sono fermata perché pensavo è un genere musicale molto interessante chiaramente con livelli alti a livelli medi livelli bassi come come qualsiasi forma con forma di arte ci sono eh artisti più valide o meno però anche in Italia esiste questo modo di proprio di confrontarsi chi fa rap spesso eh eh ci sono queste sfide proprio di alla rima la metrica quindi in un certo senso è una continuità no di quello che era alla fine del settecento no hai ragione perfettamente sì era quello che volevo dire io però non volevo mi sembrava di essere blasfema parlando di poesia eccetera ed era proprio quello infatti l'ho detto a ave accanto dico a me veramente la viscera è molto a rappare no perché riporta questo quindi questi giovani che attraverso le parole attraverso queste eh come le chiamano queste rime che scrivono eh praticamente dicono tirano fuori i loro sentimenti i loro stati d'anima ecco cambia questo cambia questo che non si fa più una un riferimento ai classici o ai contenuti eh della poesia precedente o di altri autori si parla di se stessi questo è ancora più valevole se vuoi no no sono d'accordo perfettamente con te condividiamo la stessa idea su questo sì e anzi forse è anche un modo per imparare a conoscere il mondo dei dei ragazzi di oggi eh andare andare ascoltare e quello che magari può anche non piacere però è interessante perché è una forma di di arte di scrittura eh forte forte e urgente sì no hai ragione se sono se sono sinceri i loro testi a volte veramente ti spaventano e ti fanno male al cuore se sono sinceri capito ci senti a volte la disperazione la denuncia anche di di situazioni di di stati di vita che veramente ti ti spaventano eh a me almeno a me fanno questo io sono per mia natura empatica per cui proprio mi mi ci metto nel nelle situazioni e a volte li sento come gridi no? gridi risperati di richieste di aiuto sono d'accordo con te sì ecco questo non non avveniva nel fatto nella poesia perché erano proprio erano proprio i testi diversi certo certo questo siamo chiaramente dal novecento in poi ma ci si concentra anche più su sull'aspetto eh personale no proprio e sull'urgenza della vita quotidiana però insomma si la pensa anch'io assolutamente sul rap che è una forma d'arte molto interessante e povera ecco un altro aspetto che non ha grandi strutture e nasce proprio in strada quindi proprio la voce e la scrittura ecco però è una forma letteraria che i ragazzi hanno si sono riappropriati di questo di questa forma di di arte senza grandi sovrastrutture poi ora in realtà il rap è esploso quindi va a Sanremo va a X-Falto ma eh anche quello che è successo in Italia secondo me è un fenomeno estremamente interessante che dalle periferie più più misere e peggiori escono fuori dei dei racconti e delle storie assolutamente di valore sono d'accordo sì veramente sono veramente d'accordo su questo sì io ti ringrazio appunto per avermi dato questa occasione spero che le persone leggano il libro e e che imparino e che vedano Teresa Bandettino ti dico un aneddoto ti Bandettini sul nome della strada eh una volta uno mi dice ma forse era una suora ecco perché o forse chi era bisognerebbe scrivere anche il nome tutto per intero no? capito? Sarebbe meglio ringrazio l'interesse che c'è per la toponomastica al femminile e per questo voglio dire ai presenti se ancora ci sono che io ho fatto un lungo lavoro sulla toponomastica femminile per la provincia di Lucca e ho evidenziato un po' tutti i nomi eh delle strade che portavano denominazione al femminile riscontrando ecco quella che era un po' la moda del tempo tante tante sante e tante madonne queste c'erano però c'era ci sono anche tante 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 altre donne e e sono contenta e ringrazio anche eh il area che 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 porta avanti questi interesse questo fortemente proprio e spero ora di andare a a ad onorare una delle madri della costituente eh nella nella la denominazione che verrà data alla rotatoria di Porta Elisa. grazie anche da parte di Ilaria perché Ilaria Vietna si sta spendendo tanto in questo senso ci sono ringraziamenti da parte di tutti, grazie per l'intervento dice Nade, è una lezione molto interessante dice Giovanna, grazie per averci fatto scoprire una figura di donna interessante dice Monica sì perché poi appunto Teresa Mandettini è un nome che è Luca è conosciuto però magari la storia la conosciamo poco, quindi è stato importante secondo me poi scusa, una cosa io vorrei elevare a Teresa Mandettini l'epiteto di poetessa ballerina capito? Perché la svilisce lei non è stata una poetessa ballerina, è stata una donna coraggiosa e tenace e capaglia e sono contenta di averne studiato almeno in parte la sua vita ringrazio tutti spero che ci siano anche tanti uomini perché sennò di donne si parla solo fra donne invece dato che il mondo va condiviso bisognerebbe condividere un po' tutto scusa io sono sempre un po' più gentile sono anche tanti maschi va bene saluto il mio amico Tiretta rimando il video che abbiamo già mandato all'inizio ok grazie grazie mille perché come hai già detto anche te non esistono tanti luoghi legati a Teresa Mandettini il dato lucale ci sembrava quello più indicato anche perché pare che sia stata lei a suggerire proprio il programma delle sculture della galleria realizzata dal nottorieni il programma delle statue bene è una cosa che non sapevo mi fa piacere apprenderla grazie a tutti ciao a tutti allora ci vediamo il prossimo sabato il prossimo sabato parleremo di Elisa Bonaparte andremo proprio alla corte di Elisa Bonaparte gli artisti la moda e l'etichetta lo faremo con Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani Pardini allora rimando il video grazie ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti